Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Hammer Thing e come potete vedere c'è la lingua in italiano. È una preview e come tutte le preview io non ho mai provato questo gioco e lo giocheremo insieme. Allora, carica partita, nuova partita. Da qualche parte lungo la catena montuosa di Mara, sulla vetta fredda e minacciosa del monte Kraztarum, una colonia di nani si prepara a stabilirsi in un luogo a lungo abbandonato dalla loro specie. Sostiene la lega di Metis nella grande guerra sulla superficie e svele i misteri di una montagna che cambia a ogni partita. Iniziamo. Ok, qui ci spiega brevemente il tutorial che cosa dobbiamo fare, quindi ti diamo il benvenuto nella montagna, controllerai una colonia di nani con l'obiettivo di stabilirti nella montagna e supportare la fazione alleata alla grande guerra che infuria in superficie. Per aiutarli dovrai scavare, estrarre, costruire e creare. Costruisci una cava ed esplora affinché non avrai acquisito una sufficiente saggetta della montagna per imparare la metallurgia e costruire una fonderia piccola. Continua a commerciare, esplora e acquisisci e bla 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 e tanti bla bla bla. Ok, questi sono comandi della velocità di pausa, poi abbiamo i comandi per i tuoi nani, puoi vedere quello che fanno e il loro stato più in basso, puoi trovare le missioni. Ok, qui puoi trovare, puoi visualizzare la scorta comune della città della montagna, varie notifiche dovresti controllare e poi i pulsanti, importanti per la superficie, arcana, il registro, il libro mastro e l'encicopedia e il menu azione. Vabbè, era meglio non scriverlo e farlo cliccare nel frattempo. Va bene, arrivano i nani. Un nuovo inizio. Come mai? In molti giochi scrivono sempre così. Siamo in Tardan, primo, primo quarto vestibulum, prima luna del 1836, anno del sesto eone. Siamo arrivati alla nostra nuova città montagna. Ingva, Inusmark, Gudlei, Platblock e Torolf Grammaharm. Ah, sono i nani questi! E Torolf Grammaharm. Ah, ok, ok, ok. Sono pronti a trasformare questo buco. Io non riuscivo a capire che cavolo ero. A trasformare questo buco nella roccia in una dimora, degna di qualsiasi naro, che la barba cresca lunga e che il piccone sia sempre affilato. Ok, va bene. Eccoli qua. Zoomiamo, stanno arrivando i nani. Ok, ce l'abbiamo. E quindi? Va bene. E che devo fare? Tipo, prendo questo? Ah, energia. C'è un po' di tutto. Brio. Minatore. Queste saranno le esperienze e le professioni. Quindi, vado qua. Ah, posso già picconare? Tipo questo? Piccono qua. No, eh? Ho già capito. Piccona. No? Piccona qua. No? Come faccio a annullare la picconaggia? Ecco. Non può picconare. Questa è la mappa. Recinno a zanna. Superficie. Per rimuovere la mappa, clicca sul pulsante centrale del mouse, la rotellina, trascina. Ok, vabbè, vabbè. Va bene. Ok. Tool remote. Ingenito Nord. Va bene. Enciclopedia. Barra superiore. Tanta roba. Facciamo che abbiamo già letto tutto. Allora, mi serve un nano. Tipo questo. Ma lo possiamo spostare? No, eh? Il grande successo di recluta nani. Superficie. E questa è la guerra in superficie. Ok. Nano. Dobbiamo fare qualcosa, brah? Ah, ma era in pausa. No. Posizione al blocco. Infrastrutture. Qua ci sono i mob. Oh, attenzione. Incominciamo ad attaccare i mob. Tutti, 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 tutti. Vediamo il combattimento. Ecco perché non succedeva niente. Era in... Qua c'è qualcosa, eh. Andiamo a scavare, andiamo. Perché non me lo scavate qua? Ci vorrebbe un tasto rapido proprio per cancellare le azioni, eh. Sposta, abbatte edificio, stanze. Cava piccola. Ah. Iniziamo a fare una cava piccola qua. La voglio qui. Costruiamo. Ha più senso, eh. Il tutorial non è fatto benissimo, però. Ha molto più senso adesso. Quindi non possiamo salire fino a qua. Ma tutti questi oggetti li posso raccogliere, no? Infrastrutture. Scrigno di pietra. Lo metteremo accanto alla cava. Poi. Lanterna. Così abbiamo la luce. Qua. E poi. Ah, c'è una rampa. Che sta succedendo? Perché sta andando in giù? Vabbè. Vabbè. Questa è una rampa normale così? Ma qua c'è la cava. Che bella. Bella, però. Devo farla qua io. Vabbè. Voglio capire cosa sono ste rampe. Perché lui dice... Vediamo un po' cosa succede. Cos'è la smantelliamo? Voglio vedere che rampa è. Se è una scala o qualcosa. Cioè non ho ben capito, eh. Che cos'è? Intanto prende lui esperienza. Fa un'impalcatura. Ah, è un'impalcatura. Quindi adesso noi possiamo... Costruire un'altra qua. E loro camminano, salgono. Andiamo. Ci proviamo. Qui c'è roba, eh. Da raccogliere. Allora... Mi serve un nano che non sta a fa niente. Tipo tu. Sposta qua. Che non possono più salire adesso. No, sale. Scavalca pure lui. Bravo. Tu mi servivi. Allora, tu... Quello che devi fare... Ah, tu posizioni i blocchi. Vabbè. Ok, questa è la nostra cava, no? Pezzo di granito. Crea. E ci va un... Ah... Facciamone dieci. Perfetto. Stiamo incominciando a capire cosa succede. Lui va nella cava e scava. Tu, invece... A me mi serve che voi fate... Un'altra cava... Che è sta roba? Porta muro. No, no. Una porta. Perché è così? Non lo so. Vabbè. Me ne serve un'altra qua. Però non lo possiamo costruire. Perché? Perché forse dobbiamo ancora salire? Ne so io. Boh. Proviamo. Questo fa zigzagolo? Ma forse possiamo costruire così. Esatto, esatto. No, no. Fermi tutti. Fermi tutti. Tira la cancella sta roba. Questa è un'impalcatura. Adesso ho capito. Che loro salgono così. Ok. Basta, basta. Nulla. Presaggi di guerra. Sta per scadrarsi una battaglia alla grande guerra e le nostre asce potrebbero cambiare le sorti. Dove? Cosa? Chi? Quando? C'è un timer per la demo. Infatti adesso loro salgono e incominciano a creare lì. E noi facciamo anche qui una cava. Ok, ok, ok. Ci siamo, ci siamo. Equipaggiamento obsoleto. Eh, non c'ho altro io. Ah, quale ricerca? Aspetta. Saggezza arcana. Metallurgia. Richiede sette di che cosa? Cucina, agricoltura sotterranea, relazioni commerciali, agricoltura. Voglio l'agricoltura perché già stiamo morendo di fame. Scusate, ma quante ne abbiamo di sta roba? Hm, ok. Non so come si faccia... Ah, infatti abbiamo adesso... Grotta vivaio. Che l'andremo a posizionare... Possiamo mettere dei blocchi qua, no? Così? Lo fa, vediamo. Dove sei? Dove sei? Qua. Ma questo ancora non l'hanno fatto. Stanno buttando giù il mondo qua. Però abbiamo fatto la cava, qua ci dovrebbe essere il copper. Tanto granito c'ha. Infatti questo qui è esatto. Dovrebbe avere pilastro di granito, blocco di granito, granito... No, è sempre granito. Quindi se la metti qua o la metti là, non cambia niente. Alla fin fine loro... Pensavo fosse... C'è tipo questo materiale qua, vabbè. L'ha messo i blocchi? Bravo. Posiziona un altro blocco qua, per favore. E qua. No. E poi mettiamo... La nostra cava qua. Qua che sta succedendo? Segheria di torna... Tardovento... Eh, ma come si fa a collegare? Ah, devo... Devo andarci. Se gli do questo, lui mi dà questo. Ma che ne so. Completata. Ah, vuole dieci di granito grezzo. Ok. Ce l'abbiamo. Vabbè. Adesso vuole... Due di questi e due di quelli. Quindi... Crea... Di questi... E creiamo anche questo. Blocchi di granito. Ne creiamo altri dieci. E di questi, che non so cosa ci facciamo nei pilastri, ma ne creiamo dieci. Il problema è che non so dove sono finiti i nostri nani. Trollofor. Dove sei? Vai qua. Come si fa a dirgli a Trollofor di andare al... Ah, qua, così. No, no, no. Fermo. Va. No. Livello due. Non ci sto capendo nulla. Allora, stiamo calmi. Chi... Chi lavora qua? Perché nessuno ci va a lavorare? Perché i miei nani non lavorano? Non si fa a dirgli di lavorare. Salute. Niente. Non gli piace. Ah, forse dobbiamo creare questi, perché se no... Ah, ok, ok, ok. Ho capito. Quindi dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, è tutto questo. Ok. Questo vuole il copper. Vabbè, dopo ci trasferiremo qua, eh. Qui crea... Posso scrivere? No. Vai. Solo lo fanno avanti e indietro e costruiscono una cucina. Nel frattempo questo... Va quello, va benissimo. Questo lo piazziamo sopra. Mi sa che è più importante fare questo. Perché senza di questo non può fare il resto. Ok. E lui nel frattempo fa brega di là. Ci siamo. Bene o male, stiamo riuscendo a capire qualcosa. La luce, cosa ha bisogno? Di una lanterna e questa non lo può costruire. Qua ci abbiamo gli slime. Qui c'è roba, però. Vabbè, la cesta ha bisogno del copper. Ah, attenzione. C'è... L'attacco delle slimer qua. Bravo. Adesso poi mangiamo. E dobbiamo posizionare dei blocchi. Perché sennò qua... Qua c'è licenza. Però queste cose qua, vedi? Mmm. Tipo... Tieni per punto control. Una descrizione dettagliata. Licheni. Ma non ci posso fare... Non lo prende, Licheni. Vabbè. Questo fa avanti e indietro. Eh, la caverna sembra... Oh mio Dio, la caverna è gigante. E noi siamo qua. Vabbè. Comunque, abbiamo costruito la cucina? Quasi. Un fungo di caverna. Ward Harvesta. Quindi i funghi li possiamo raccogliere. Ward Harvesta. Ward Harvest. E poi ci cuciniamo? Forse se li mangiano. Il discorso è che manca la priorità. Ma questo vuole i triangolini. Ma i triangolini li stiamo facendo? Non sono questi? Bravissimo. Vai. Nuovo livello. Ah, è livellato. Possiamo... Ah, ecco. Livello, livello. Brio, apprendimento, riflessione, brutalità, ardore. Cosa gli diamo? Cos'è il brio? Aumento di talento desiderato. Ah, vediamo... E brutalità. Ancora? Si può fare? Ma quanti punti c'ho? Ah, così. Fico. Tu, invece... Ah, prendi molto più velocemente. Ah, ecco. Dovamo premere il play. Brio. E brutalità. Deve essere cattivo dopo. Tu, invece... Apprendimento un po' di qua. Ardore, che penso sia la vita. E vai di brutalità. Perfetto. Ah, vediamo se ci abbiamo altre... Otto. Relazioni commerciali tra nani... Metallurgia. Bravo, così incominciamo a fare il copper. Ah, no. Ok. Vai, vai, vai. Adesso sicuramente qui possiamo fare qualcosa, no? No. Grotta vivaio... Fonderia. Eccola qua. E la fonderia la posso mettere qua accanto? Ah. Acqua e fungo cappellino. Creiamo 10 di acqua... E fungo cappellone... 10. World Harvest... Bravo, le World Harvestate. Bravo. Che è sta roba? Perché non lo può mettere? Ah, non può raggiungerlo. Tu che ci fai qua? Fai una cosa? Sbarazzati di queste cose. Vai, non ha la scoperta, va? Ammazza... Ammazza il ratta. Ammazza, ammazza. Bravo. Andiamo cos'è che c'è qua. Guarda come si arrampicano. Bravi, bravi. Andiamo, andiamo. All'avventura. Spacca tutto. Spacca tutto. Vai, vai, vai. Abbiamo trovato la caverna... Nascosta. Che sta facendo? Stanno facendo tutto da solo, eh? Ah, stanno uccidendo quello che dove produce lo slime? Ah, così faccio XP a manetta, io. Eh sì. Fatti il nuovo livello. Vai di brutality. Pure tu, brutality. Brutalità. Cioè, è un pozzo senza fondo di esperienza, così. Figo. Vabbè. Io vengo qua e faccio esperienza, così. Però, tipo, non... Non si spostano più, sono rimasti lì. Ah, no. L'ha distrutta. Ah, perché erano rimasti lì un bel po'. Comunque si può ancora esplorare. Buono, ottimo. Eh, avete avversato tutto? E, signore, dobbiamo togliere sto fungo qua. Ok. E avversiamolo. Prendilo, prendilo. Bravo. Poi, andiamo di qua. Perché questo qua non si può togliere? Perché è irraggiungibile. Ma in teoria non è irraggiungibile. Dov'è l'imparcatura? Adesso ci costruiamo l'imparcatura. Si impari. Eh, ho visto che adesso si può raggiungere. Bravo. Se io vado qua, lui ci può arrivare qua? No. Boh, non lo so. Andiamo. Ok, creiamo qua e poi vediamo. Qua dentro cosa c'è? Qui ci si cade qua, eh. Cosa richiede? Vuole questo qua. Crea. Comunque sento qualcuno che... Ah, è questo. Che sta creando i funghi. Un pazzo questo. Guarda quanto ne ha creati. Acqua. Funghi. Ottimo. Bravo. Così mangiano. Penso, eh. Poi non lo so. Andiamo di metallurgica. Bravo. Adesso dobbiamo fare la fonderia. No, lui adesso prende tutta sta roba. Bravissimo. Arvesta. Bravo. E poi andrà a vedere qua cosa c'è. E dovrai creare la fonderia. La fonderia la faremo qua. Più in basso. Così. Vai. Così distruggiamo tutta sta cosa. Oppure no. Aspetta, 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 aspetta. Come si fa a togliere... No, no. La voglio togliere. Togli, togli tutto. No, togli, togli. Destro per annullare. Shift, destro per... No. Vabbè, è andata così. Volevo farla un po' più in alto. Però vabbè, è andata così. Velocità 3. Attenzione che... Mi sa che ci servono i gubotti. Ma per fare i gubotti servono questi. C'è qualcosa che sta succedendo? Ho sentito... Wow, 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 wow. Ho sentito. Tipo questo dove sta andando? Abitità. Ha preso qualcosa. Ok. Penso che sia andato a mangiare. Questo cos'è? Questo è un altro tipo di materiale. Questo è carbone. Carbone. Questo? Granito. Granito. Questo qua non è granito. Questo è terra. Terra e rame. Rame, 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 rame. Rame. E qua c'è il carbone. Perfetto. Abbiamo finito con la fonderia? Ok. 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 Però qua c'è un sacco. Perché? Vabbè. Rimane tutta qua. Vabbè. Eh. Ce n'è un sacco. C'è qualcosa che... C'è questa sacca qua, vedi? Cioè sì, io gli dico a lui. Eh no, la prende. Boh. Vabbè. Andiamo a vedere un po'. Allora. Apprendimento. Più alto. Riflessione. Sì, facciamo alzare anche un po' di altre cose. Che sennò poracci. Anche la vita, porino. Apprendono velocemente comunque. Tu, ardore. Vai. Vai, costruisci, costruisci. Cos'è che ci manca? Ci abbiamo tutto? Che sta succedendo? Sento rumori. Mi andrei un po' in esplorazione adesso. Eccola qua. Va che bella. Finalmente possiamo creare dei lingotti. Che del minerale di rame. Naturalmente il minerale di rame dovrebbe poterlo estrarre da qua, no? Allora. Abbiamo creato la grotta vivaio. Ah, un funghetto. Andiamola a prendere. Le nostre due cave. E la fonderia. E finalmente potranno costruire questo. No. Cos'è che vogliono? Eh, mancano degli oggetti. Ok. Lui sta creando un sacco di... Granito, sbriciola... Ah! Finalmente abbiamo creato la cesta. Quindi adesso tutto il materiale lo possiamo mettere qua? Assegna contenuto. Lingotto, legname... Minerali. No. Minerali... Ah, devo dire... Dai però, fammi assegnare i minerali, grazie. Non so, credo li stiano mettendo in automatico. Questo, 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 questo... E questo, vai. Facciamo i prodotti della cava. Ah, ma... Arvesta... Ma crescono come funghi qua le cose. Vabbè. Si divertono. Noi... Andremo a creare... Una salitina qua. Allora, un ponte verso l'ignoto. Va bene. Ah, ne vuole un altro di... Ah, ce l'ho un altro di questo. Crea. Così ne abbiamo dieci. Vai. Bravissimo, completata. Grazie mille. Fuori una. Abbiamo completato una missione. Finalmente. Questa missione qua, invece, cosa richiede? Galleria dura. Attacco dell'ordine. E dieci spada. Va bene, va bene. La facciamo. Questa cos'è che vuole? Trave. Eh, tanta roba. Eh, ancora cose che non possiamo fare, ma... Prima o poi, riusciremo a farle. Allora, vediamo un attimo. Possiamo fare il commercio con i nani. O la forgiatura, che permette di fare tutti questi metalli più un piccone più figo. O anche la cucina. Quindi vuole tre più cinque. Dieci più tre. E questo quindici. Questo lo possiamo fare. Questo no, perché ancora deve aspettare. E anche questo non possiamo farlo. Vabbè. Però abbiamo la cucina. Quindi la cucina, io direi di andarla a mettere... È gigante la cucina. Sopra il vivaio. Ci costruiamo una scala. In qualche modo. Qua. Esatto. Naturalmente mancano i materiali. Pesaggi di guerra sta per scatenarsi nella battaglia. Nella guerra le nostre asce potrebbero scambiare. Sì, purtroppo però... Non è problema di asce. C'è che qua... Non abbiamo... Niente. Cioè, non so neanche come affrontarla la battaglia. Come si fa? Ci sarà un tempo. Un tasto. Vai in missione. Uccidi tutti. Reclutanali. Utulfu. No, no. Che congeda? Come congeda? Ma... Moneta insufficiente. Giolfo. Fulle. Fu. Questo qua lo possiamo prendere. Reclutiamo. Abbiamo preso un nuovo nano. Gudelfo si chiamava? Boh. Vai, vai. Vita, vita, vita. Abbiamo bisogno di vita. E Gudelfo... Aumenti riflessione perché tu ti rifletti. E tu invece ci serve un po' di brio. Caratteristiche pelle e ossa, brutezza. Lui piace la brutezza. Che naturalmente c'è tanto da imparare su... I nostri nani. Perché tutte queste skill hanno un qualcosa... Ah, qua c'è, vedi, vedi, qua c'è l'equipaggiamento che ancora non abbiamo. Scava, scade, clan, alto piccolo. Non si può cambiare il nome del clan, per esempio. Qua c'abbiamo le monete. In superficie, registro. Io vorrei... Si può uccidere questo, no? Si può fare niente, vabbè. Queste sono le missioni attive. Che ci sarà molto, ma molto da fare. Questo cos'è che vuole? Dovreste avere già tutto. Esatto. Ora, se noi prendiamo un nano... Tipo... Sconfitta. La lega medica ha sofferto di sconfitta nella grande città. E... Mi dispiace. Purtroppo... Era questa? No, non lo so. Una delle tante. Purtroppo non ci posso fare niente. Gudelfo. Vieni qua in esplorazione. Uè, 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 uè. Si stanno ammazzando. Attacca, attacca. No. Attaccate. Dove sono i miei nani, oh? Ma forse si muovono tutti. Quando li sposto. Quando faccio così si muovono tutti. No. Ma quanta energia hanno questi qua? Ok, ho capito, va. Spostiamoci tutti qua. Tu, bravo, ripara. M. M. Ma chi ha ucciso questo? Rattico. Uccidono tutto. Ah! Ce la fai a scendere? Questo qua cos'è? Non ce la fa. Cos'è questo? Ferro. Però possiamo fare una struttura? C'è la pianta carnivora. Tanta roba. Voglio sconfiggere con la pianta carnivora. Quindi andiamo così. Oh, c'è questo materiale che se ne va a dismisura, eh? Ne vuole tantissimo. Non si può fare produzione infinita, no, eh? Uccidi, uccidi, uccidi. Ce la facciamo ad attaccarlo? C'è una porta. Quindi io potrei mettere una porta qui, in modo tale che loro, i mostri, non passino. Ok. Ce l'ha costruito? Di già. Vai. Andiamo verso il basso. Bella lì, grande, morto. Vai, vai, vai. Si buttano proprio come dei pazzi. Bravissimi. Adesso. E poi M. Dopo che avete costruito sto ponte, andiamo a destra. E vediamo cosa c'è. Sono curioso. C'è tanta roba comunque esposta. Il comando è valido qui. Ok, andiamo. Però mettiamo un po' più piano la velocità, perché se no... Aha! No! Cos'è? Fermi tutti. No, così no. Abbiamo trovato un segreto? No? Allora, possiamo scendere di qua. No, eh. Z. Ok. Allora. Ammazzate tutti. Scenderemo di qua. E naturalmente ci servono questi. Peccato che non si può mettere... Si può scrivere il numero 50, 100. Così è un po'... C'è un po' più... Tocque. Crea anche qua, così siamo a posto. Devo praticamente sempre premere. Aspetta. Ah, ok. Contro... Finalmente. Vai, vai. Produci. Contro le shift. Sei più veloce. E i nostri nani incominciano la loro avventura. E cercare di capire che cos'è questo. Cinghiale arrosto. Questa è una tribù. Non c'è qualcosa. Torre di guardia goblin. Vai, 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 vai. Sono curioso. Possiamo fare le travi? Avevamo... Ne vogliono due. Uno e due. Così comprendiamo questa missione. Una. Cinque. Ok. Vai, vai. Abbiamo fatto. Si è rotta. Come si è rotta? Perché si è rotta? No, non l'ho capita. Combustibile a zero. Quindi ho bisogno di questo. Del carbone. Cacchio, il carbone è qua. Quindi devo fare... Una piccola cava qua, mi stai dicendo. Cacchio. Saperlo prima. Però se faccio così? Esatto. E poi facciamo la scala. Tanti da qua possiamo salire. Qua possiamo... Possiamo camminare. Teoria. Credo, eh. Poi non lo so. Vediamo. Nessun anno può raggiungere questa posizione. Allora, le guerre ancora non ho capito cosa... Come si fanno, eh. Quindi... No. Nessuno può raggiungere la posizione. Quindi... Andiamo così. Ok. Qua l'abbiamo fatta. Perché nessun anno può raggiungere questa posizione? Perché non può scavare più in basso? Perché c'è il nero? Non lo so. Ah, perché è inesplorato. Quindi non è visibile. Tasto V. Oh no. Ha finito la demo. Mannaggia. È finito il tempo. Che peccato. Stavo incominciando a prenderci la mano. È gusto. Vabbè. È finita così. Purtroppo. È finito anche il nostro gameplay. Spero che questa preview vi sia piaciuta. È una demo. Trovate il link di Steam in descrizione. Essendo una preview non lascerò nessun commento né giudizio finale. Questo spetta sempre a voi decidere se il gioco fa per voi oppure no. Se vi piace oppure no. Se volete supportare il canale lasciate un like e un commento. E magari ditemi se vi è piaciuto oppure no questo gioco. E se vi va iscrivetevi. Come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye. Bye bye.